Il comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto, l'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, ha inaugurato il nuovo ufficio locale marittimo di Scario. Fare buona guardia al nostro mare, tra i più limpidi d'Italia, è un dovere morale e il nuovo presidio di legalità va proprio in questa direzione. Lo ha detto Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ha partecipato al taglio del nastro. Sono profondamente grato, ha sottolineato Pellegrino, a quanti durante i miei cinque anni di presidenza del Parco hanno lavorato, collaborato e sostenuto ogni sforzo in difesa del nostro prezioso territorio, con le sue ricchezze paesaggistiche e culturali. Una sinergia che ha funzionato, che ci ha guidato verso obiettivi di cui dobbiamo essere orgogliosi, un lavoro di squadra che ha risvegliato quel sentimento di appartenenza a volte appannato, facendo sentire tutti più attenti ai nostri tesori. L'inaugurazione del nuovo presidio di legalità a Scario indica la strada che si intende proseguire. I miei sinceri ringraziamenti vanno alla Capitaneria di Porto, al sindaco Ferdinando Palazzo, con la sua amministrazione e a tutta la comunità di San Giovanni Appiro, per l'affetto vero e la vicinanza incondizionata che hanno accompagnato la mia presidenza.